Vittoria scaccia crisi per l'Unipo Mezzia che batte 1-0 il Real Velletri. Dopo due pareggi e una sconfitta, i Crimson ritrovano la gioia dei tre punti nel terreno amico contro avversari tutt'altro che remissivi. E il Velletri che in avvio si fa pericoloso con un cross dal fondo. Guidata da Cantisani, la difesa fa buona guardia su Celiani. Alla mezz'ora Unipo Mezzia vicina al gol su calcio di punizione di Torri, cross in mezzo per la corrente Arena, fuori gioco. Un minuto dopo, opportunità per il Velletri con Leoni che tenta il passaggio filtrante, copre Grossi in uscita. Poi Mortellaro si invola sulla destra, parte il cross per Arena e il portiere con coraggio salva in due tempi. Il Velletri ci prova pressando alto la difesa ma è ancora l'Unipo Mezzia ad andare vicino al gol su calcio di punizione, spizzata di testa e palla per Neri. Fantastico tiro al volo d'esterno che lambisce l'improcio dei pali. A metà ripresa, gol Unipo Mezzia, ancora cross in mezzo per Arena, sponda di testa per Milani che anticipa tutti e mette dentro. Grande l'esultanza dell'undici di Carruba che sblocca un match difficile. Nel finale, padroni di casa vicino al raddoppio, Arena scappa sulla sinistra, cross al centro e Neri anticipato al momento della confusione. Ma basta così, si sbloccano gli universitari, vittoria importante per rilanciarsi in classifica. Allora! Allora!